Questo programma è offerto da Decnocampus Lunedì 1 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla quotidiana Rassignastampa Che anche questa mattina come ogni giorno è offerta da Tecnocampus Un momento dell'informazione che viene concesso a tutti noi Per poter parlare di quelli che sono i fatti in primo piano Quelli accaduti nel fine settimana Quelli che comunque ancora verranno sviluppati nell'arco della giornata Insomma uno spunto cruciale per vedere effettivamente Infatti concreti quello che accade in Italia, nel mondo Ma anche nel più piccolo, ossia nel nostro locale E cominciamo a vedere le testate nazionali Partiamo questa mattina dal quotidiano di Via Solferino Corriere della Sera E vediamo che i fatti in primo piano riguardano l'economia Infatti vediamo nell'articolo di apertura il richiamo di Conte ai Ministri Il capo dell'esecutivo chiede più sobrietà e generosità Tria difende le banche, attaccarle, mina il paese Fontana della Lega e 5 Stelle ci coprono di insulti Decidano se governare ancora con noi Insomma non si spegne il clima di tensione nella maggioranza Il ministro leghista Lorenzo Fontana Attacca il Movimento 5 Stelle ci copre di insulti E invita il partner di maggioranza a decidere se governare ancora con la Lega Premier Giuseppe Conte che ieri ha incontrato Matteo Salvini Richiama ai Ministri e invita a mettere da parte le polemiche Indicando il suo motto Sobri nelle parole, generosi nelle azioni Il Premier ha spinto la tesi che comunque la commissione di inchiesta sulle banche Possa rappresentare un attacco al sistema creditizio E il ministro Giovanni Tria ribadisce la difesa delle banche Chi le attacca, mina il paese Insomma questa è la vicissitudine, questa è la situazione che ci troviamo questa mattina Ossia ministri che lottano l'uno contro l'altro E il problema delle banche Insomma veramente una questione sempre più intricata Sempre più una fitta rete di situazioni complesse Che comunque minano la stabilità del nostro paese E minano anche la tranquillità di ciascuno di noi Ma ancora vediamo qual è il retroscena L'ira del Premier, basta giochini Ora basta, questo non lo permetto Così Giuseppe Conte e i suoi collaboratori Prima di dettare due giorni fa la dura nota In cui invitava Salvini a studiare Prima di aprire bocca a lavorare di più e a parlare di meno E ieri durante un complicato faccia a faccia in Toscana con il leader leghista Il Premier lo ha ripetuto Adesso basta giochi E infatti non è più tempo di fare giochi È veramente il momento di dare sostanza agli italiani E fare i fatti concreti E ancora vediamo nell'editoriale di Giovazzi Di questa mattina il realismo che deve guidarci Due le questioni all'arma nei nostri partner nell'Eurozona Si chiamano Brexit e pensate un po' Italia La prima in un modo o nell'altro verrà presto risolta A quel punto rimarremo noi Ciò che preoccupa dell'Italia Non è il colore del governo Anche l'Austria è un governo populista Ciò che inquieta è la nostra crescente insofferenza per il metodo europeo Che è certamente lento, spesso deludente Fonte di continue frustrazioni Ma che da 70 anni tiene unito il nostro continente Come mai era accaduto nella sua storia Insomma, l'insofferenza del governo italiano Sanno verso le istituzioni europee Il motivo per cui lo spread non scende sotto i 250 punti E quindi le nostre imprese pagano il credito Molto più dei loro concorrenti in Francia e in Germania Pur usando la medesima moneta Lo stesso da nove mesi In qua accade ad una famiglia che voglia chiedere un mutuo Se l'Europa è percepita non come un progetto condiviso Ma come un gioco che è stato imposto È difficile escludere che si creino situazioni di cui da quel gioco decidiamo E di liberarci abbandonando insomma l'euro Questa è la situazione che si presenta soprattutto per le famiglie italiane Quella in cui non si sa in che modo investire Ma non perché non ci siano le possibilità Quanto piuttosto perché c'è il timore di fare investimenti Anche di stipulare un mutuo e mettersi sulle spalle qualcosa Che poi nell'arco del tempo crescerà o comunque diventerà un fardello insormontabile Perché comunque la situazione del paese si presenta sempre più complicata Ma ancora continuiamo a vedere le testate nazionali Vediamo sempre il Corriere della Sera, sempre la sua prima pagina Foto intime di Bezos, spionaggio saudita per poterlo ricattare È infatti ricattato dai sauditi un intreccio spionistico sullo fondo del caso Khashoggi I sauditi rubarono le foto intime del fondatore di Amazon E proprietario del Washington Post Per costringere il giornale alla censura sul caso del giornalista ucciso E quanto rivela appunto un investigatore al servizio di Bezos E ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano Ci spostiamo in Slovacchia L'avvocata Susanna Caputova, 45 anni, eletta presidente E infatti il fronte di Visegrad, rotto da un europeista La prima donna presidente della Slovacchia Susanna Caputova, avvocata, 45 anni, è stata eletta con il 58,4% dei voti al ballottaggio È europeista convinta, ostile ai populismi Al fronte di Visegrad si è sempre battuta per i diritti civili e le battaglie ecologiche E insomma staremo a vedere in questo paese Qual è appunto la Slovacchia Che cosa cambierà e soprattutto Quale sarà la politica adottata proprio in relazione a questa nuova elezione E ancora continuiamo a vedere le testate nazionali Ci spostiamo adesso su Il Fatto Quotidiano E andiamo a vedere anche qui che cosa racconta oggi E si parte dall'alto con Confindustria Meglio votare di nuovo Come sempre quella degli industriali è la recetta peggiore All'Italia serve un governo che aiuti a crescere un po' E ancora il voto presidenziale al ballottaggio Fuori Timoshenko a Ucraina Ora il comico Zelinsky Toglie il sorriso a Poroshenko E ancora le primavere africane L'inchiesta di Mediapart tra i giovani algerini C'è aria di una nuova indipendenza E nella parte centrale della pagina Vediamo che cosa è accaduto In seguito a questo tanto contestato Fine settimana in cui c'è stato il congresso Delle famiglie a Verona Che tante polemiche e tante manifestazioni Ovviamente ha creato e soprattutto contestato Soprattutto per i contenuti Di quanto riportato appunto nelle parole degli organizzatori Ma vediamo come titolo appunto Questa mattina è Fatto Quotidiano Ma che famiglia dopo la gaffa sulle competenze Ecco cosa ha fatto Fontana Adduzioni il nulla della Lega Altro che velocizzarle Nessuna legge e finanziamenti pubblici tagliati Il fondo di 25 milioni di euro Che per le pratiche internazionali È stato decurtato Di oltre 2 milioni nei prossimi tre anni Il Parlamento è fermo Le commissioni non ne discutono Ne vengono calendarizzati I DDL in materia Intanto i minori adottati diminuiscono di anno in anno Così come le coppie richiedenti Insomma veramente una situazione allo stallo Una situazione che si presenta sempre più articolata Dopo le parole del vice premier Matteo Salvini Che aveva detto in termini di adozioni Proprio in questo fine settimana passato Che ci sarebbe stato un'agevolazione E soprattutto bisogna fare in fretta Per dare una casa A tanti che hanno la necessità A tanti bambini che si trovano adottabili E che hanno la necessità di avere una vera e propria famiglia Eppure a quanto pare la situazione non è questa E vediamo la marcia su Verona Le ultime follie Le donne a casa E il papa nemico Mettetemi in marcia Come ha fatto Martin Luther King Dietro il palco Della marcia delle famiglie E' questo che racconta appunto oggi questo quotidiano E ancora vediamo la storia di Copertina Il viaggio nel capoluogo abruzzese A dieci anni dal terremoto Pensate un po' Ancora diecimila persone vivono nelle New Town La procura ha aperto 200 fascicoli Il centro è spopolato Come lo sono molti paesi limitro Che cosa è rimasto della premessa? Tutto tornerà come prima Ed eccoci qua infatti Titola proprio così Questa storia di Copertina L'Aquila 2019 Provvisori a vita Insomma una situazione anche questa Sempre più brutta Che racconta di un'Italia In cui le vicissitudini della natura Le impervie situazioni Che colpiscono e degradano le nostre città In seguito Ripeto a tutto ciò che di natura Fa il gioco della vita Che cosa accade? Che a distanza di tempo Dopo tante promesse Dopo tante volontà espresse Di creare situazioni nuove Soprattutto edifici E dare una stabilità a chi aveva perso tutto Ancora si è in alto mare E ancora vediamo le altre notizie In primo piano Eccoci qua Le case di militari In primo piano Beffa i comuni Stato in difesa Non paga limu E ancora il cibo vegano Tutti gli affari Dietro gli ideali Che infatti Titola proprio così Gronda denaro Sempre più Viene scelto a questo tipo di alimentazione Quella vegana Che prevede un'esclusione totale Di tutto ciò che è di origine animale Anche i derivati degli animali Ma questo che cosa determina? Determina che comunque ci deve essere Un'alimentazione basata su degli elementi Scelti in maniera attenta Oculata E soprattutto per far sì Che il corpo umano Non perda quei requisiti fondamentali Che necessitano per vivere Questo però che cosa fa? Scatena tante situazioni Soprattutto a livello economico Dove c'è chi sfrutta la situazione E lo fa nel modo peggiore Ed ancora vediamo nella parte bassa di questa pagina Sport, i surti e social Dal campo al far web Giocatori squalificati Per i commenti poco eleganti Su Facebook Insomma una volta Si commentava direttamente Sui campi di gioco Con il proprio gioco Adesso si è scesi Molto molto in basso Perché lo si fa assolutamente Non giocando Ma semplicemente Esprimendosi Proprio su quelli Che noi non denunciamo Non riteniamo I veri colpevoli Che sono i social Quanto le persone Che fanno di questi social Degli strumenti Utilizzati Nella maniera peggiore Veramente Quasi come se Lo ripeto ogni mattina Ciò che viene scritto Su un social network Non fosse reale Quasi come se Non arrivasse In maniera concreta Al mondo Ma semplicemente Un po' qualcosa Di effimero Che poi una volta scritto Sparisce Puff Quasi come per magia Ma la realtà Non è questa E continuiamo ancora a vedere Le testate nazionali Ci spostiamo sul libero Anche qui liti E provocazioni continue Movimento 5 Stelle E Lega Non si tollerano più Lo scontro sulle famiglie Si acuisce Fico lancia La giornata gay In Parlamento Spadafora Con Salvini Mai più alleati Scoppia la grana Dei conti Crescita zero A causa del reddito Grillino Al posto del taglio Delle tasse E intanto Vediamo Tria L'allarme che viene lanciato Il governo Proprio sull'economia Ha fallito Il ministro infatti dice L'Italia è a crescita zero E gli industriali Ancora una volta Che urlano Svegliatevi E infatti ci sono frasi Che appaiono E appena le senti Capisci che entreranno Nei libri di storia O almeno in quelli Delle barzellette E infatti Che cosa si racconta Il Maranaldo Enrico Stai sereno Spedito da Matteo Renzi Al povero Letta Fu una di queste Due mesi fa Giuseppe Conte Ne ha contato un'altra Quando ha promesso Che il 2019 Sarebbe stato Un anno bellissimo Grazie al programma Incredibile Di ripresa Preparato appunto Dal governo Un'emozione però Durata troppo poco Ieri 60 giorni dopo Giovanni Tria Ha piantato il chiodo Definitivo Sulla bara del PIL Ha detto Ci troviamo di fronte A un rallentamento Della crescita In tutta Europa Si è fermata La Germania Ed ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Giorgia Menoni Chi vuol spedire Grillini a casa Deve votare me Insomma Lei si propone appunto Come il baluardo Contro i grillini E giustamente Dal suo punto di vista Dice Votate per me Ed ancora Intanto Una svolta litigiosa Tagliani è accusato Di fare in realtà Il bullo E nella parte bassa Della pagina Oggi Primo aprile Pesce d'aprile Amaro Per chi ha lavorato E pagato i contributi E perché? Perché oggi Via al taglio delle pensioni E si salvi Chi può Infatti l'allineamento temporale Beffardo Lo scherzo c'è Come prevede la tradizione Ma con il pesce d'aprile Preparato dal governo Ci sarà ben poco Da divertirsi Da oggi infatti Tutti i pensionati Anche quelli nuovi di Zecca Prodotti proprio Da quota 100 E ancora Vediamo Che cosa accade Sempre in questa piccola parte Del piede di pagina Di Libero I versi scorretti Di Vasco Dalla De Andrè Non potremo più Neppure cantare Perché le cantiamo Fischiettiamo Le troviamo romantiche O simpatiche Comunque godiamo All'ascolto Ma se venissero proposte oggi Quelle canzoni Cadrebbero fatalmente Sotto la scura Del politicamente corretto Sarebbero infatti Reputate Offensive Pensate un po' Addirittura Questo E noi ci fermiamo Per un momento Qualche attimo Di pubblicità Ma non temete Ritorniamo subito dopo Quindi non andate via Grazie a tutti Grazie a tutti All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Ben tornati in studio E a quanto pare Salvini Qui comando io È questo che viene annunciato Dalla Repubblica Questa mattina Infatti dopo lo scontro Il Premier Vede il leader Leghista Che detta le condizioni Per la tregua Ma sarebbe pronto A falsaltare tutto Tria lancia l'allarme Crescita zero E chiede interventi urgenti Confindustria Se continua lo stallo Ovviamente È meglio andare al voto E ancora vediamo Nel labirinto Della reciproca Convenienza E intanto Parla Paduan Nell'intervista Alla Repubblica Solo schermaglia Il vero problema È chi paga Il conto Della recessione E intanto Via alle prime Nuove pensioni Favoriti quota 100 E tutti gli altri Invece in coda E nella parte centrale Della pagina Il sogno Dile Clark In fumo La Ferrari tradisce Il suo cavallino Rampante E nella parte bassa Della pagina Meno fedeli Ma più vicina Alla chiesa Che allo Stato A quanto pare Questo è l'annuncio Che fa questa mattina Repubblica E intanto Così Scalfari Trasforma la vita In poesia In un libro appunto In cui racconta L'esistenza In maniera Del tutto Surreale Ancora andiamo a vedere Le altre notizie In primo piano Il giornale Non c'è più un euro Fine delle illusioni Tria ammette Crescita zero Qui è tutto bloccato Fra Liga e Movimento 5 Stelle E crisi vere In 5 punti Ed ancora Vediamo Nella parte sinistra Nell'articolo Di spalla Facebook E contenuti Leciti Non passiamo Dal web Giungla Ai divieti Bigotti Insomma Anche qui Un allarme Attento E preciso Proprio viene Lanciato Dal giornale Anche in questo Campo Si tende Ovviamente A schematizzare Dalle due parti Una situazione Che ormai È sfuggita di mano Da un lato Si esagera Ma anche Dall'altro lato Riducendo i contenuti E cercando di essere sempre più Come vengono definiti qua Su questa prima pagina Del giornale Bigotti E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Anche qui Vediamo il dibattito Sulla famiglia Il vero medioevo Erano i tepisti In piazza A Torino Dove c'è stata Una manifestazione E ancora Quanto è difficile Essere cattolici Nell'Italia Laicista Probabilmente Il problema grande Non è la questione Di essere cattolici Diventa complicato In un'Italia laicista Quanto piuttosto Diventa essere Laico Ma anche cattolico Laddove non c'è Il rispetto reciproco Questo è l'elemento Di base Che rappresenta L'inutilità Di quella Che è un'esistenza Senza conciliazione Ovviamente La volontà di tutti Dovrebbe essere manifestata Ma soprattutto Nel rispetto reciproco E invece Sembra non sussistere Da nessuna delle parti Questa situazione Questo primo elemento Che potrebbe portare A un dialogo E soprattutto A una coesistenza Serena E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Crimi taglia i giornali Per dare i suoi sondaggi Il sottosegretario Spende infatti 5.000 euro Ed ancora Vediamo Nella parte bassa Il giudice di Auschwitz Pensate un po' La denuncia E questa Era un nazista Ed ancora Nella parte più bassa Della pagina L'ultima lezione Della regina E la dignità Di invecchiare Elisabetta Infatti È a lei Che parla E ancora La zuffa social Sul duce Tra la Mussolini E la star Che racconta Questi fatti E intanto Vediamo L'essenziale E anche bello I cento anni Di Bauhaus E ancora Continuiamo a sfogliare Le testate nazionali Le prime pagine Andiamo a vedere Il messaggero Questa mattina Anche da questa pagina L'allarme di Tria L'ite sulla crescita Il MEF Serve subito a decreto E giù le mani dalle banche Movimento 5 Stelle Lega divisi Sullo sblocca appalti Conte ai ministri Meno parole Più azioni Confindustria Troppe divergenze Meglio il voto Ed ancora Nella parte centrale Lazio Trionfo e sorpasso Sui giallorossi Crollo Roma Pallotta Colpa dei giocatori Ed ancora Sia di scooter 125 Anche in tangenziale Il limite però Resta a 130 Ed ancora Vediamo Spesa di 168 milioni Il governo Si compra 8.280 Auto blu E grigio Sì il titolo è proprio così Il governo Si compra Ok Continuiamo a vedere Le altre notizie In primo piano E passiamo A il mattino E vediamo Nella parte alta E colloquio Guillermo del Toro Porta al cinema Tutti i mostri Della mia infanzia E intanto Il Papa Chi alza muri Finirà prigioniero Delle sue barriere L'intervista Che viene fatta Appunto A Papa Francesco Dalle pagine Del mattino Ed ancora Dieci anni dopo L'Aquila e Matteo Il primo figlio Del terremoto E intanto Nella parte centrale Nell'articolo di apertura Crescita Allarme del tesoro Ma il governo Litiga su tutto Tria chi attacca Attacca le banche Attacca l'Italia Conte I ministri Parlino meno Taglio Tasse Cantieri Lega Movimento 5 Stelle Ancora divisi Confindustria Se così Meglio votare Ed ancora Il personaggio La metamorfosi Del premier Il re dell'avvocato Proprie contraddizioni E divisioni Questa è la domanda Che si pone Appunto Il quotidiano Il mattino Ed ancora Il finto spauracchio Del voto europeo Le elezioni Sono un po' Come le partite Di pallone Credi Almeno a un certo punto Di sapere Come andranno a finire E poi Arriva un risultato A sorpresa E noi siamo sempre Pronti a vedere Se effettivamente Arriverà un risultato A sorpresa Oppure no E ancora Vediamo La villa comunale L'allarme lanciato Dal mattino Lo scempio Nel salotto verde Di Napoli Sotto inchiesta Il degrado Del salotto di Napoli Oggetto di un'inchiesta Della magistratura La procura indaga Sulla villa comunale Anche questo Vedremo dopo Ed ancora In primo piano Un fatto accaduto Nella giornata Di ieri Sciocca a Durazzano Uccisi in piazza Dopo la lite Al bar Genero e suocero Freddati Nel Beneventano Sullo sfondo Lo scontro Per lo spaccio Di droga Infatti Un vero e proprio Pomeriggio di sangue A Durazzano In provincia di Benevento Dove due uomini Sono stati assassinati A fucilate Le vittime Mario Morgillo 68 anni E suo genero Andrea Romano Di 49 anni Sono stati uccise Ieri nella piazza Del paese Francesco D'Angelo Ad ucciderli 52enne del posto Arrestato poco dopo Il duplice omicidio Ma questo anche Lo andremo a vedere dopo Ed ancora Vediamo Napoli capitale Ancelotti Siamo in forma Arsenal Tutto pronto E infatti Vediamo Asfaltata la Roma Per 1 a 4 Milik Non si ferma più Un attacco formato Europa E il riscatto Verdi E Super Caleon Verdi aveva L'occasione riscatto E all'Olimpico L'ha sfruttata In pieno Ottima prestazione Anche di Caleon In certo Merette E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Il lavoro che serve Assurd Serve All'Italia Infatti Gentile direttore Questo governo Sta facendo danni Enormi all'Italia Dice Nicola Zingaretti Il 2009 Secondo tutte le previsioni Come le ultime Di Confindustria Sarà a crescita Zero Ed ancora Ci spostiamo Sulle altre testate Nazionali Andiamo a vedere Ancora una volta La stampa E vediamo L'articolo di apertura Anche qui E lo scontro La Fondo di Movimento 5 Stelle Contro Tria Conflitto di interessi Ora il Ministro Rischia E così Il Colle Protegge Le banche Intanto Le paure Degli europei Preoccuva Più il lavoro Del arrivo Dei migranti Ormai Sembra proprio Passato In secondo piano E ancora Vediamo Le giovani stelle Dello sport In primo piano E infine Nella parte bassa Della pagina Un grave allarme Per quanto riguarda L'ecologia Sardegna Il capodoglio Ucciso Dalla plastica Sembra appunto Che la plastica Faccia più danni Di tante altre sostanze E rende invivibile Proprio Il nostro mare E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Sulla parte Economica E vediamo I primi rincari Nelle città Su Imu IRPEF Ed anche Turismo E pensioni Quota 100 Per soli uomini E intanto La casa abusiva Vendita Salva Contito L'edilizio Ma non tutti I casi E intanto Cervelli Nuovo rientro Senza scherzi Fiscali Insomma Si presentano Nuove situazioni Appunto Per quanto riguarda L'economia E sempre Sulla Sulla questione Economia Andiamo a vedere Italia Oggi Che cosa ci presenta Oggi Vediamo Nella parte alta Della pagina CDA Poltrone scomode Il monitoraggio Di flussi di cassa Della società Per garantire Il pagamento Dei debiti E la continuità Aziendale Ora è responsabile Ovviamente Di tutti I consiglieri Ed ancora Copyright Caccia le licenze I contenuti Della direttiva Dell'Unione Europea Su diritto d'autore Che tenta Di bilanciare Interessi Di editori Autori Ed anche Provider Insomma Un compito Hardware Sempre più difficile E sembra questo Essere il primo punto Per arrivare A quella che era Tutela del diritto D'autore Ma sempre più Articolata E difficile E ancora Vediamo Sulle pagine sportive Il Corriere Dello Sport Azzerati Roma in ginocchio 1 a 4 Contro un Napoli Show Pallotta Fuori le palle Poker di Milik Mertens Verdi Junet Per i giallorossi Europa più lontana Ranieri Rischia E Totti Chiede più poteri Intanto nella parte bassa Della pagina Impresa Lazio Intercapo 0 a 1 Spalletti Sotto accusa Punito Ma il tecnico Difende la scelta Di escludere Icardi Doveva restare fuori Per come si è comportato E intanto nella parte bassa Della pagina La Ferrari Si fulmina E Valentino Intanto si illumina E ancora continuiamo A vedere la parte sportiva Ci spostiamo su tutto sport Toro Adesso basta Pari a Firenze Ma un'altra occasione Sprecata Per l'Europa Serve un cambio di passo E mercoledì C'è la Samp Mazzarri Striglia Zazza E ancora Commosso Omaggio a Mondonico Al Franchi E migliaia di tifosi In piazza Della signoria Per i 50 anni Di Battistuta E intanto Grande Lazio Bufferà Inter Spalletti Demolisce Icardi E ancora vediamo L'operazione Ken 2024 La Juve al lavoro Per rinnovare Il contratto Di Moise In scadenza Nel 2020 L'asse Nedved Raiola La chiave Vincente E intanto Nella parte bassa Della pagina Zapata Che botti di compleanno Dea Meno 3 Dalla Champions E intanto Leclerc Fantastico Ora il futuro È il suo Ma la Ferrari Cede E Rossi Che show Lotta Condovizioso E finisce Secondo E con questa ultima notizia Delle testate nazionali Mi fermo Vi concedo altri due minuti Per la pubblicità Ma poi non andate via Ritorniamo con i fatti Che riguardano la regione Campania Delle testate nazionali Campania Nelод Leclerc Mi fermo Nelod Ma poi non andate via Fini Mi fermo Po moles Mi fermo Mi fermamente Mi fermo Mi fermo Mi fermo L' merry E fortuna All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio. Cominciamo a vedere i fatti che ci riguardano più da vicino. E avete presente quante volte si sente che fuori dall'Italia qualche grande imprenditore ha ceduto il passo perché non riusciva più a tenere la propria attività in vita ed è stata rilevata dai propri operai? Ecco, noi vediamo sempre queste cose, queste vicende che accadono sempre a distanza all'esterno e adesso a quanto pare sembra invece che la situazione si sia ribaltata e queste cose accadono anche vicino da noi. Ad esempio ad Acerra infatti, miracolo operaio, ad Acerra 12 lavoratori acquistano la fabbrica con il TFR, salvata l'azienda in crisi, ora la gestiscono loro con un fatturato pensate di 2 milioni. 6 anni lontani dal lavoro, altri 3 per provare a rilevare l'azienda, macchinari comprati all'asta con il proprio TFR, poi sabotaggi, un incendio e tante difficoltà. Ma dopo una strada impervia che sembrava irta di spine, i 12 operai di Screen Sud ce l'hanno fatta. Ora la fabbrica di Acerra e di loro proprietà fattura 2 milioni l'anno e va a gonfiavere l'anno acquistata con la liquidazione di 15 anni di lavoro, sborsando anche l'anticipo di mobilità e con l'aiuto di Lega Coppa. Non posso spiegarlo, non trovo le parole, racconta Raffaele Silvestro, presidente della cooperativa ed ex responsabile commerciale della vecchia società fallita, ti alzi da casa tua e vieni a casa tua. E su questa affermazione passiamo adesso ad un altro argomento perché questo è veramente il fulcro di tutto, ovviamente quando tu del tuo lavoro fai la tua essenza e soprattutto a casa ti senti a casa, ma ti senti a casa anche al lavoro diventa veramente un qualcosa di incredibilmente bello. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul calcio, il Napoli sbanca l'Olimpico e brinda il secondo posto. E infatti tanto Napoli, pochissima Roma, la partita dell'Olimpico è stata senza storia e la stravinta per 4-1 la squadra di Ancelotti a segno con Mirk, Mertens, Verdi e Younes. Inutile il gol segnato alla fine del primo tempo da Perotti su calcio di rigore, eppure la posta in pario era assai più importante per i giallorossi che nonostante l'arrivo in panchina di Ranieri al posto di Di Francesco, rischiano di perdere contatto dalla zona Champions. Per gli azzurri, sempre più saldamente secondo in classifica, è stato invece un utile test in vista della doppia sfida dei quarti di Udova Rig proprio contro l'Arsenal. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, lo vediamo ancora una volta col quotidiano La Repubblica e vediamo quali sono i fatti. 13.000 all'archeologico per la mostra su Canova. La bellezza suprema dei capolavori di Canova attira migliaia di visitatori a rischio sindrome di Stendhal. Con queste parole il direttore del Museo archeologico nazionale Paolo Giudierini ha commentato il risultato dei primi quattro giorni di programmazione della mostra Canova e l'Antico, da giovedì 28 marzo fino ad oggi. Infatti oltre 13.000 visitatori hanno ammirato le opere dell'artista di Possagno in esposizione all'archeologico. Insomma, la cultura si fa a bellezza e si esprime in tutte le sue forme. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Da Salerno il dramma di Nerina, uccisa e sfregiata dal protettore. E vediamo infatti che cosa è accaduto, lo vediamo proprio nelle notizie in primo piano. E adesso ci spostiamo a Napoli, Comune. Corsa contro il tempo a notte fonda, la Giunta approva il bilancio 2019. E infatti si è riunita la Giunta Comunale nella serata di ieri per approvare il bilancio preventivo 2019, bilancio pluriannale 2019-2021 che sarà discusso a breve in Consiglio Comunale. Con la manovra si dà il via ad un grande piano assunzionale così scandito. Assunzioni a tempo, indeterminato per tutti i profili presenti nelle graduatorie concorsuali, finalizzate a mantenere inalterata, anzi a far crescere, la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Con l'avvio del processo e la stabilizzazione delle LSU, insomma dei lavoratori socialmente utili. Insomma, un vantaggio proprio per quanto riguarda il lavoro. Ed ancora stenti, giustificati e retribuiti, il Consiglio regionale fa muro. E vediamo proprio un'immagine del Consiglio regionale. E l'assenteismo in Consiglio regionale senza tagli alle indennità, i diretti interessati si chiudono al riccio. I più non rispondono, preferiscono non commentare. La norma va bene così com'è, non va cambiata, dicono gli altri. A sostenere la tesi che minimizza la polemica sui dati relativi all'essenza nei primi quattro anni di lavori d'aula, sono anche coloro etichettabili come meritevoli in quanto sempre presenti. Tra questi Tommaso Casillo, non un a caso considerando il suo ruolo di Vicepresidente del Consiglio in quota Campania Libera, la lista civica deluchiana prontissima a sostenere nuovamente il governatore uscente alle regionali proprio l'anno prossimo. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Mergellina, l'ex stazione di lusso, trasformata in terra di nessuno, ostaggio del degrado. E la vediamo già in un'immagine. Infatti scale mobili off limits, servizi igienici interdetti, biglietteria a singhiozzo, esercizi commerciali dismessi e un livello di sicurezza ovviamente inesistente. La fine della stazione scicca di Mergellina è scritta da ormai dieci anni. Quello che era considerato uno scalo ferroviario d'elitto utilizzato da deputati e ministri per i collegamenti tra Napoli e la capitale, oggi è il simbolo del degrado e dell'abbandono. Insomma, una denuncia brutta ma reale. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. L'ira di Salvini dopo le minacce vuol dire che diamo molto fastidio. Ci spostiamo infatti a Salerno. Eccoci qua l'immagine che ritrae questa scritta contro la Lega. Altre minacce di morte, questa volta in provincia di Salerno. Vidiacchi vuol dire che diamo molto, molto fastidio, lo so, di avere voi dalla mia parte. Vado avanti, è quanto scrive il vicepremiere e ministro dell'interno Matteo Salvini su Facebook, postando la foto di una scritta su un muro in cui si legge fascista, leghista, morite tu e Salvini. Ed ancora le altre notizie in primo piano. Da Napoli il disastro della villa comunale indaga la procura custodi nel mirino. E incominciamo a vedere questa foto che già ritrae in minima parte ovviamente il degrado. Quanti sono i custodi della villa comunale di Napoli? Quali sono i loro turni di lavoro? E ancora, che giri fanno a chi rivolgono segnalazioni? Qual è il regime di lavoro in cui vengono inseriti? Sono i punti su cui si sta battendo la procura di Napoli che ha deciso di indagare sullo scempio in cui versa l'ex giardino borbonico, quello che fino a qualche anno fa era un vanto, uno dei passeggi più belli al mondo e si parte dalla sicurezza all'interno del perimetro della villa che dovrebbe essere assicurato innanzitutto dai custodi in uno scenario in cui vengono fuori anche altre criticità legate alla pulizia e alla condizione delle piante. Insomma, sempre più degrado per questo parco che rappresentava appunto, è il caso di dirlo, rappresentava la bellezza di questa città. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo su Caserta News, vittime della strada a parlare fico servono pene più severe. Il Presidente della Camera incontra infatti le famiglie casertane e lo vediamo ritratto in questa immagine. Pene più severe e processi più rapidi, una maggiore prevenzione con l'appoggio del servizio pubblico televisivo delle scuole, lo stanziamento di più fondi a favore degli enti locali e l'uso mirato di speciali tecnologie. Solo così, dice, si potrà aumentare la sicurezza sulle strade. Ed ancora vediamo in piazza fisso su uno di muri uno striscione con un collage di foto delle tante vittime della strada soprattutto giovani presenti e fico. Rispondendo ad alcune domande ha sottolineato l'importanza di un dibattito parlamentare prima di affrontare il tema del trasferimento dei poteri in capo alle regioni. Evidenziando poi la necessità di rimuovere anche le coballe di rifiuti che sono una vergogna nazionale addetto sistemate a Giuliano in Campania a qualche chilometro dalla piazza dove era in corso appunto la manifestazione. Ed ancora vediamo gli altri fatti in primo piano già l'abbiamo anticipato nei titoli dei quotidiani nazionali uccisi in piazza e le vittime sono socio e genero fermato il killer. Una terza persona sarebbe riuscita a scampare all'aguato. L'autore del duplice omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Durazzano è stato arrestato. Le vittime, suocero e genero rimaste coinvolte nella sparatoria nella piazza del paese sono Mario Morgillo 68 anni ed Andrea Romano 49 anni originari di San Felice a Cancello durante le ricerche dei carabinieri della compagnia di Montesarchio il killer si è subito arreso e ora si trova in caserma. I due sono stati freddati in piazza Galilei mentre erano fuori ad un bar. L'omicidio avrebbe sparato per vendicare la lite avvenuta pensate un po' nell'aprile 2018 dopo un incidente stradale avvenuto a Santa Maria a Vico nel quale rimasero coinvolti il familiare delle due vittime ed un trentenne di Durazzano. I due si sarebbero incontrati nuovamente domenica scorsa nella piazza del centro Sannita ed avrebbero nuovamente litigato. Adesso è arrivato l'ipilogo finale con l'omicidio dei due familiari del trentunenne di San Felice a Cancello che invece sarebbe riuscito a scampare all'aguato. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano ancora una volta la cronaca furto nel cantiere dell'albergo in costruzione arrestato a 19 anni in fuga a due complici la rifurtiva è stata recuperata. Stavano infatti smontando l'imparcatura dell'albergo in costruzione nella fazione 13 a Caserta proprio ridosso dell'uscita della variante a San Clemente ma la loro azione ha attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente dato l'allarme alla squadra volante della questura di Caserta gli agenti si sono portati sul posto e con un blitz a fulminio sono riusciti a bloccare un ragazzino di 19 anni di etnia a Roma mentre gli altri due complici sono riusciti a scappare il ragazzo insieme agli altri ladri era riuscito a caricare su due automobili con le quali erano arrivati in zona diversi pezzi dell'impalcatura ma il loro piano è stato scombussolato dall'intervento degli agenti diretti dal commissario Michele Pota che sono riusciti a recuperare tutto il materiale rubato che è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario e il ragazzo è stato ovviamente arrestato ma chiudiamo e concludiamo questa rassegna stampa con lo sport la bellezza dello sport targato tutto Caserta e andiamo a vedere i fatti che hanno riguardato ieri la squadra femminile di volley Golden Tulip 2.0 e infatti a Caserta dice proprio questo articolo non si passa in un palavignola ancora una volta incandescente le rosa nero della Golden Tulip 2.0 battono con un perentorio 3-0 le avversarie della OMAG San Giovanni in Marignano e si rilanciano in vista del rush finale per la conquista dei playoff tre punti di fondamentale importanza che permettono di dire che Caserta è ancora viva e lotterà ovviamente fino alla fine in bocca al lupo a questa squadra in bocca al lupo a tutti i casertani che ci credono e soprattutto allo sport fatto con passione e anche per questa mattina la rassegna stampa termina qui a voi tutti un grazie per essere stati con noi ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre la possibilità di stare insieme e parlare di informazione a 360 gradi l'appuntamento ve lo do nuovamente per la giornata di domani stesso posto, stessa ora a voi tutti una splendida giornata questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti 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 Grazie a tutti